In diverse occasioni avessero la possibilità di farvi sotto nel complesso, sul momento che c'era il passaggio di essere più forte, sulla gratta c'è una squadra più attrezzata, una squadra molto profonda, con una macchina forte, quando ha dimostrato che siamo più lontano, non siamo mai riusciti ancora in una sua prima partita, abbiamo fatto una strutturazione che è importante, ma così l'ho scoppito oggi. Presidente, con una strutturità consecutiva, forse il territorio sta riscando troppo a giocare senza un americano e magari approfitterà di questa pausa, non una pausa per guardarsi qui intorno, o comunque crede che a non prescindere dalla nostra mancanza, il direttore è un'esperienza di rispettiva. Un'esperienza di rispettiva fuori casa, sul campo con quello di Forniglia, nelle vicende a scavati sono state, in casa con il Barcellona, il Serentino può essere rispettiva. Certo l'insegnamento di nuovo è ancora un po' di tempo, perché l'insegnamento di rispettiva fuori casa, con il Casini, l'ha arrivato da volto e non è ancora lì per la partita. Ci guardiamo sicuramente più, ci guardiamo lì, e anche nel senso di giocare lì per le condizioni, le squadre che sono un po' di giocare oggi ragionano anche un po' di più e anche nel senso di giocare.